Oggi, sabato 9 febbraio 2019, è l'ultimo giorno di Sanremo, il quarto e ultimo giorno. Sono contento perché veramente a me di Sanremo non mi è mai importato nulla e non mi importerà mai nulla. Ho fatto dei video in YouTube parlandone non solo quest'anno ma già dal 2013 perché il 7 febbraio 2019 il mio canale di YouTube ha compiuto ben 6 anni. Quindi sono 6 anni che parlo su Sanremo, sulla scarsa rilevanza che per me ha avuto. Infatti io non ho mai saputo quando è iniziato Sanremo e adesso so soltanto che è finito. Quindi vi invito a guardare i miei video su YouTube per sapere quello che penso su Sanremo. Grazie a tutti e tutti amici ed amiche miei di seguirmi e da presto. Ciao!